5 stelle e problemi loro, non mi tocca, han detto troppe cose e troppo diversamente. Solo perché l'informazione è quella che è, 7-8 mesi fa sul Mond è stato pubblicato un documento di 200 economisti francesi che spiegavano come e qualmente si possa uscire dall'euro, io l'ho trasformato in mozione, me l'ha firmato solo Salvini, Speroni, di tutto il Parlamento europeo. Questo vuol dire che la Lega c'è. Grazie Mario.